Dopo l'allertavento conclusasi nei giorni scorsi con centinaia di interventi dei vigili del fuoco per rami e piante di velte e crollate sulla sede stradale per fortuna senza conseguenza sull'incolumità delle persone, Rossini TV accende le sue telecamere sulle segnalazioni dei telespettatori che indicano altre zone a rischio in tal senso. È il caso della frazione pesarese di case bruciate dove l'urgenza di potature è fra le più pressanti. Con il vento è caduto un ramo che c'erano dei ragazzi disabili, è stato per un po' che non li ha presi, è andata bene. Ho fatto una segnalazione di venire su a vedere, non ho avuto nessuna risposta. Come vedete ci sono tanti rami e piante secche che devono essere potate. Se facciamo un percorso dall'inizio di case bruciate fino alla fine, qua ci sono tante piante da abbattere e da potare. E in più abbiamo un guard drive che è piettoso, a parte che sta cadendo, è tutto coperto dai rami che va ripulito. Tutto quest'anno sono passati una volta a pulire, ma una cosa superficiale, niente di più. Io penso che non bisogna guardare solo nella città, bisogna guardare un attimino anche fuori dalla città. Una richiesta d'attenzione sulle periferie e sui rischi delle zone collinari. Segnalazioni a Rossini TV che riguardano anche analoghe problematiche su parte dell'ardizio. Dagli alberi che incombono sulla strada panoramica a quelli che insistono sul transito della statale su Fosso Segiore.